E' invece necessario dire alle nostre forze di più, di più, di più, di più, perché questa terra è una terra che ha dell'esperienza, che sono meravigliose. E voi che le conoscete, che le vedete, toccate con mano, abbiamo bisogno di moltiplicare questa coscienza che dà dignità e speranza. Dobbiamo inondare i nostri territori di fiducia e di speranza, attraverso cose concrete. La politica deve fare la propria parte, ma anche noi come cittadini abbiamo assunti di più la nostra parte. Grazie.